Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Metà delle bibite gazate in vendita in un supermercato contiene più zucchero di quanto un adulto dovrebbe consumarne in 24 ore. È il risultato di un nuovo studio pubblicato sul British Medical Journal riferito al mercato britannico ma che ha notevoli punti di contatto con quel che c'è sugli scaffali del nostro paese. Tu bevi bibite gazate e se sì in quali quantità? Io non solo non bevo bibite gazate perché sono contro ma sinceramente limito anche gli zuccheri che si trovano in altri alimenti perché francamente effettivamente gli zuccheri possono essere dannosi non soltanto per quanto riguarda eventuali diete o problemi di peso ma anche proprio per questioni di salute e quindi evito il più possibile. E questo è il motivo per cui quindi sei contro le bibite gazate o c'è l'altro? Ma allora diciamo che in generale io sono un po' per le cose naturali e quindi l'acqua se proprio proprio bisogna concedersi qualcosa secondo me è meglio un bicchiere di vino che non le bibite gazate. No assolutamente non ne ho mai fatto uso praticamente quindi in generale. Poi se oltretutto c'è una dose di zucchero eccessiva francamente non mi sembra proprio il caso. No nessuna quantità. Non le bevi? Eh no, solitamente no. È una scelta che hai fatto proprio per questo motivo o perché semplicemente non ti piacciono? A parte che non mi piacciono ma poi ho anche dei problemi miei gastrointinali per cui non posso consumarne e non mi mancano comunque. Sì ma normale, una bibita ogni paio di giorni a tavola insomma, fuori pasto mai. In alcuni paesi hanno deciso di intervenire sul consumo di bevande zuccherate e zuccheri aggiunti. Per esempio il Messico ha imposto una tassa sulle bevande non alcoliche con aggiunta di zuccheri. L'Ungheria l'ha impostata sui prodotti confezionati con elevata presenza di zuccheri. Le Filippine, Sudafrica, Regno Unito e l'Iran del Nord hanno annunciato l'intenzione di applicare tasse sulle bevande zuccherate. È esagerato? Oppure se venisse fatta in Italia la cosa pensi che la proveresti? Ma sinceramente non lo so, se magari l'informazione fosse forse migliore, non lo so, oppure se tutti volessero informarsi meglio non ci sarebbe bisogno di mettere delle tasse sul consumo, ma ognuno si gestirebbe a modo suo diciamo. Informazione, parli proprio delle etichette sulle bottiglie o più in generale proprio la conoscenza di ciò che mangiamo e beviamo? Eh, un po' tutte e due. Pensi che sia un po' carente? Sì, penso sia un po' carente. A limite togliere ma non tassarle, è una stupidaggine. Quindi togliere dal mercato? La togli dal mercato ma non la puoi tassare, è una stupidaggine, secondo me poi. Come mai trova che sia una stupidaggine? Perché non la sempre, bisogna tassare, quindi se tassiamo tutti gli alimenti o le bevande che fanno male, cosa rimane? Niente, l'aria forse. Forse converrebbe magari porre dei limiti alle aziende che producono e far sì che... Sì, ma basterebbe toglierle dai distributori automatici, al limite, e basta. Poi per il resto, secondo me, è una grossa stupidaggine. Ma mi sembra un po' di business questa cosa, più che altro, cioè potrebbe anche essere giusto, però ci sono altri problemi, secondo me, molto più importanti, però sì, potrebbe anche essere giusto. Grazie.